Ciao a tutti, io sono Delia, mi trovo al San Martin Pub in Corso San Martino 0B. È veramente un piacere avervi qua con me. Vi faccio fare un giro per il locale, venite! Il San Martin Pub è un classico pub irlandese disposto su due piani con più sale e più tv. In modo tale che voi, mentre assaggiate i migliori piatti e bevete le migliori birre, riusciate anche a vedere le vostre partite preferite. Chiaramente non ci facciamo mancare niente, quindi abbiamo anche una sala fumatori. Il nostro punto di forza sono chiaramente i nostri piatti. All'interno del San Martin Pub potrete assaggiare i migliori hamburger fatti con carne di prima scelta oppure le pizze di ottima qualità. Chiaramente tutto questo accompagnato dalle migliori birre come ad esempio una Green Bergen, birra belga da battia oppure Tennant o Kalsberg. Rinnoviamo quindi l'appuntamento, vi aspettiamo tutti i giorni dalle ore 19 alle 3 di notte in Corso San Martino 0B al San Martin Pub. Un grosso saluto, un grosso bacione da Davia e lo staff del San Martin. Al prossimo episodio